Bella a tutti frienze, benvenuti in un nuovo video, ci duriamo su Fortnite, sono uscite le nuove sfide Fortbyte, andiamo a vedere subito di che cosa si tratta? Ecco qui la nuova sfida numero 17, si trova all'interno di una costruzione pesce di legno. Benissimo, andiamo a selezionare una di queste qualsiasi modalità, eccetto creativa e parco giochi, vi faccio subito vedere dove si trova questo nuovo Fortbyte. Eccoci qui buttati già in game, stiamo raggiungendo il pesce in legno, è proprio questo qui, ora vi faccio vedere esattamente dove si trova il Fortbyte perché dovrebbe essere qui sotto. Vediamo se è vero, eccolo qui il nostro Fortbyte numero 17, lo andiamo a ricercare e ce l'ha dato, vi faccio vedere la posizione esatta di dove mi trovo, esattamente in questo punto nord della mappa dei Fortnite, sopra Laguna Languida, proprio qui dove sono queste quattro pozze giganti. Spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un bel mi piace, condividetelo con tutti i vostri amici, almeno anche loro riescono a fare questa sfida nella maniera più semplice e veloce possibile. Iscrivetevi a questo canale per rimanere a giornare su tutte le sfide del Fortbyte che usciranno quotidianamente, perciò mi raccomando iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche. Noi ci vediamo più tardi con altri nuovi video e... Le belle, mesami!